Benvenuto su Necrologia Italia. Iscriviti e attiva la campanella. Franco Diogene, nato nel 1947 a Catania e noto soprattutto per i ruoli di caratterista nel cinema italiano. Dotato di presenza corpulenta e voce inconfondibile, Diogene si distinse nei filoni della commedia sexy all'italiana e del poliziottesco, spesso interpretando il ruolo del Bonario Grassone. Nel film, il ragazzo di campagna interpretava l'assicuratore. Tra i suoi lavori più noti si includono La Casa Stregata, Attila Flagello di Dio, 7 chili in 7 giorni, La Classe Non è Acqua e Innamorato Pazzo. Morì all'età di 57 anni nel 2005 per arresto cardiocircolatorio. Enzo Cannavale, nato a Castellammare di Stabia nel 1928, scoperto da Edoardo De Filippo mentre lavorava alle poste, è stato un prominente attore del teatro napoletano, noto per la sua verve ironica e comica, interpretò il personaggio non vedente nel Ragazzo di Campagna. Negli anni 60 e fino al 2009, ha partecipato a diverse pellicole cinematografiche, spesso in coppia con Bombolo e Thomas Millian nella saga dell'ispettore Nico Giraldi. Cannavale raggiunse la celebrità con la tetralogia di Steno Piedone, accanto a Bud Spencer, e lavorò anche in film polizieschi come Napoli si ribella, 1977, di Michele Massimo Tarantino, al fianco di Luke Merenda. Morì a Napoli il 18 marzo 2011 per un attacco cardiaco. Dino Cassio, nato a Bari nel 1934, iniziò la sua carriera come attore di varietà e caratterista. Dal 1973 inizia a recitare, apparendo spesso in commedia all'italiana. Nel film, il ragazzo di campagna interpreta il commissario di polizia e ha recitato in altri film come Scuola di ladri, Professione Vacanze e Grandi magazzini. Uno dei suoi ruoli più celebri è quello del prete che incontra Lino Banfi nella sorreale scena degli schiaffi di Vieni Avanti Cretino del 1982. Si è spento il 9 luglio 2012, all'età di 78 anni. Enzo De Toma, nato nel 1921, ha partecipato come comparsa e caratterista ad alcuni film di Adriano Celentano e Renato Pozzetto, tra cui, Il bisbetico domato, L'innamorato pazzo, Il ragazzo di campagna, in cui interpreta un paziente dell'ospedale, Grandi magazzini e Arrivato mio fratello. L'ultima apparizione risale a C.A.I. Rotto papà del 1993. De Toma è diventato popolare per essere apparso nella pubblicità dei Pennelli Cinghiale, trasmessa regolarmente in televisione fino agli anni 2000 nonostante sia stata girata nel 1975-1976. È anche apparso in quasi tutti i film di Celentano. È morto nel 1999. Enzo Garinei, nato nel 1926 a Roma, debuttò sul grande schermo nel 1949 in Totole Mocoe e durante quattro decenni partecipò a numerose commedie musicali e film, spesso in ruoli secondari, riducendo le sue apparizioni solo dagli anni 90. Nel ragazzo di campagna interpreta il direttore del Residence. Negli anni il 97-98, fu protagonista della serie televisiva Io e la mamma, affiancato da Delia Scala e Gerry Scotti. Nel 2008-2009, lo abbiamo visto in Facciamo l'amore e Aggiungi un posto a tavola, insieme a Gianluca Guidi e Lorenza Mario. È morto nella sua casa a Roma il 25 agosto 2022, all'età di 96 anni. Guido Spadea, nato a Milano nel 1921, iniziò la sua carriera nel mondo teatrale a 21 anni, nel 1942, lavorando come macchinista e scrivendo scenette di argomento locale. La sua abilità lo portò a collaborare con Mario Carotenuto e altri artisti, diventando un autore televisivo rispettato. La sua versatilità lo condusse a intraprendere anche la carriera di attore, soprattutto caratterista. Nel ragazzo di campagna interpretò il collega dell'assicuratore. Uno dei suoi ruoli più noti fu quello del maestro Nanini nel film Il maestro di Vigevano del 1963, accanto ad Alberto Sordi. Morì il 28 maggio 2013. Elio Veller, nato a Caldonio nel 1937, Veller iniziò a interessarsi al teatro durante gli anni trascorsi in un collegio salesiano. La sua carriera teatrale decollò quando entrò al Piccolo Teatro di Milano, dove rimase per circa 15 anni. Arriverà a lavorare con Franco Parenti, Dario Fo, Anna Maria Guarnieri e Luca Ronconi, ottenendo successo anche a Broadway. Nel ragazzo di campagna interpreta Margherita, l'omosessuale. Negli anni 2000, Veller appare anche in tv, nella sitcom Casa Vianello. Morì il 25 maggio 2012 all'età di 75 anni a causa di un incidente stradale. Jimmy Il fenomeno, nato nel 1932 a Lucera, è stato un attore caratterista, ricordato per il suo viso dall'espressione inconfondibile, lo sguardo strabico, la parlata dialettale e la sconclusionata risata. La sua carriera nel cinema iniziò nel 1957, quando venne scoperto da Rosario Borelli e ingaggiato per il film Gambe d'oro con Totò. Da allora, ha partecipato a oltre 150 film, interpretando una vasta gamma di ruoli, dalla commedia all'erotico. Nel ragazzo di campagna ha interpretato la parte del vinaio. Verso la fine della sua vita, affrontò problemi di salute che lo resero dipendente da una sedia a rotelle. Morì il 6 agosto 2018 all'età di 86 anni. Massimo Serato, nato nel 1916 a Doderzo, si formò come attore presso il Centro Sperimentale di Cinematografia, vincendo un concorso alla Scalera Film con Anna Magnani, sua compagna per alcuni anni, dalla quale ebbe un figlio, Luca, che però non riconobbe. Tra il 1941 e il 1953, ebbe ruoli di rilievo in diversi film, tra cui Il Piccolo Mondo Antico, 1941, di Mario Soldati e Sorelle Materassi, 1944. Nel ragazzo di campagna interpreta lo spacciatore di droga. Continuò a lavorare nel cinema fino alla sua ultima pellicola, La Commedia Fratelli d'Italia, 1989. Morì il 22 dicembre 1989. Andrea Montuschi, si conosce poco della vita privata dell'attore, sappiamo però, recitato come caratterista in molti film dagli anni 70 fino ai primi anni 2000, come ad esempio, Rimini Rimini un anno dopo, Iuppis, Genova a mano armata, Festival e Svitati. Nel ragazzo di campagna interpreta il tassista. È morto il 6 ottobre 2011 a Genova. Il ragazzo di campagna è una commedia italiana del 1984 diretta da Castellano e Pipolo e interpretata da Renato Pozzetto. La trama ruota attorno a Lallo, un giovane di campagna che vive in un piccolo villaggio. Un giorno scopre di essere il figlio illegittimo di un ricco imprenditore milanese, il conte Ottavio. Dopo la morte del conte, Lallo eredita la sua fortuna e si trasferisce a Milano per iniziare una nuova vita. Nella grande città, Lallo si trova ad affrontare una serie di situazioni comiche e imbarazzanti mentre cerca di adattarsi alla vita urbana e alle sue convenzioni sociali. Nonostante la sua ingenuità e il suo modo di fare semplice e genuino, Lallo riesce a conquistare il cuore di alcune persone, dimostrando il suo valore nonostante l'origine modesta. La commedia esplora temi come l'ascesa sociale, l'identità personale e le differenze culturali tra città e campagna, il tutto con un tocco di umorismo irresistibile tipico del cinema italiano degli anni Ottanta.